Musica Buonasera Oh, oh Sergio, Sergio Buonasera, ben arrivati Ma lei, SIAO SERGIO Bene arrivati Lei non è un uomo, non è di parole, non è puntuale. Luigi, com'è Sergio? Non è di parole, nemmeno puntuale. Qui vediamo che è un cesellatore di pulitura, un artista, uno spennatore. Come si chiama questa tecnica di pulitura? Spelliglio. Del latino, spellacchiato. Spellacchiato. S come Savona, A come Antolo, L come Livoni, Lame. Allora, sta domandando che Pulimbrano ha risposto, i tempi necessari per rompere 1500 volte. Facciamo una prova scientifica, ma male che prima non si romperebbe niente. Ah, dopo? Le provisioni di rottura sono... Per avere una certezza scientifica, si fa sì che l'evento deve essere fattibile e riprovabile. Quindi quando non ci riusciamo a farlo la prima volta, bisogna ritentare. Ragazzi, ma serve una mano. La canonica domanda, è nata prima la gallina o la versiccia? E' nata prima la cloaca, cioè da dove esce l'uomo. E da lì poi è nato tutto. Anche la salsiccia? E' naturale, perché poi dal brodo primordiale sono nati gli anfibri, pesci, anfibri, mammiferi. E pestiferi. E poi hanno fatto il corpo. E' un uovo che non gli mancano solo. A volte non mind collective, e per esempio no. Non miglioramento. No, la印... Come ti drovo qua, sono proposti addirittura. Pelo, la Armuso e enfants, a rico narrative. No, voi siete impiegati. Grazie a tutti Grazie a tutti Cibo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti